Una comitiva di 12 escursionisti italiani è rimasta ferita da una scarica di sassi sotto al rifugio Gabbier, nel comune di Gressonei la Trinité, a Osta. L'incidente è avvenuto oggi, dopo le 12.30, a quota 2000 metri. Sono intervenuti gli esperti del soccorso alpino, i vigili del fuoco e il corpo forestale. La scarica, secondo quanto spiegano gli esperti del soccorso alpino valdostano, SAV, sarebbe stata provocata probabilmente dal passaggio di alcuni stambecchi. Quattro escursionisti sono stati soccorsi e trasportati con l'elicottero in ospedale per accertamenti e per le cure del caso. Gli altri, illesi, rientreranno a valle senza necessità di intervento sanitario. Vigili del fuoco volontari e carabinieri li raggiungeranno lungo il percorso e li accompagneranno a destinazione. Nel pomeriggio è previsto un sopralluogo del corpo forestale della Valle d'Aosta, stazione di Gabi, per verificare le condizioni di sicurezza della zona e del sentiero.